Il nostro momento con il numero 7, il primo numero 4 con il numero 2, Mario, con il numero 20, Domenico, con il numero 3, Antimede, con il numero 16, Federico, Nassarini e con il numero 5, il capitano, Rado Larillo, con il numero 6, Neda, con il numero 21, Carini, con il numero 18, Rode, Acqua fresca! E con il numero 11, Sanlucchi! 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 Grazie.